ci abbiamo oggi verso la foce del pescara e sono pieno di roba ho il guadino non so se si vede attaccato alla bici in più sulle spalle ho lo zaino gigante con gli artificiali e il fodero con la canna e il murinello dentro già montati da attaccare solo la canna speriamo di arrivare in fretta e soprattutto sano e salvo con questo coso qua e vabbè allora ci si vede sul luogo di pesca ciao 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 ora è discesa ci rimettiamo su e fra una decina di minuti dovrei essere quasi arrivato ciao 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 eccoci a destinazione questa è la foce sempre molto sporca ora attacco la bc qui supero questi brutti scogli e comincio ciao ciao non vedo manganze né cefali di solito qui si accumulano molto cefali e prete dei serra vediamo con il mammotti 140 come l'altra volta dopo proverò con qualche scato a cuote via col primo lancio colpo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.